ATTENZIONE STA PER COMINCIARE K-PRODUCTION Salve a tutti ragazzi e benvenuti Guardate un po' dove siamo, siamo su Battlefield 1 Faremo qualche video in questa settimana Per quanto riguarda il farvi vedere almeno qualche mappa nuova di Battlefield 1 Visto che dal momento che ho fatto l'ultimo video di Battlefield Ci sono già usciti due nuovi DLC Con me oggi c'è anche Starman Buonasera o buongiorno Eh dipende insomma da quando lo stanno a vedere il video Allora ragazzi hanno aggiunto tante cose al gioco Tra cui anche vi faccio vedere molto velocemente Anche queste sfide che si chiamano incarichi di servizio Che poi vi sbloccheranno Queste abilità passive Di cui poi solo tre Se ne può scegliere per ogni Mi sembra classe Cioè per ogni Sì per ogni classe del gioco Ora come vedete io qui Alcuni già li ho completati Per esempio dovrei fare qualche cosa qui Che con il supporto Qui che riguarda sempre fare danni O cose con carri armati E invece che cos'è che è? Distruggi due veicoli con carattanti carri Insomma mi serve In ogni caso si parla di veicoli Qua tranne gli uccisioni con la balestra da lancio Va bene Allora ragazzi Adesso giocheremo In modalità operazioni Sperando che Ci uniamo assieme Io e Mo sto vedendo Devi salvi il verde Oltre la manna verde È strano Marea rossa Ah per indicare Ho capito perché Per indicare Quelli col DLC sono verdi Ah ok Ok allora Noi giocheremo L'operazione che si chiama Qual era quello più bello? Oltre la marna Giusto? Sì Devi il servile Pure caruccio Come operazione Però Facciamo oltre la marna Oltre la marna Vedremo praticamente Due Poi dipende Se riusciremo ad arrivare Alla seconda Delle mappe Ambientate In In Francia Dai sì Sì Finalmente Finalmente E sta per cominciare Dai ho preso il carro Dai prendi il carro armato Prendisci a Gimon Vai vai Hai preso? Ho una su Gimè Ho una su Gimè Eccoti vai Eccomi Allora ok Vai vai Pre Aspetta Devo prendere Ecco Sì sono io al comando O no? No Sono io al comando Sì Sono io al comando Questa frase Non ti ricorda niente Io No Eh Preto Sono io al comando Allora ragazzi Eccomi qua nel carro armato Allora io devo fare le uccisione Oh qua che sono aerei nemici Ma no Ho provato a colpirlo ma Niente Aspetta che esco e ti riparo Vai vai Sì 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 ripara Ripara Quella casa La dobbiamo fare a pezzi Avviciniamoci Avviciniamoci Dove stanno i sozzoni Dove stanno i sozzoni Oh eccoli Oh C'è qualcosa Qualcuno Qualcuno che spara Oh l'ho preso Aspetta La fai veloce Sono morto Sono morto Aspetta Mamma mia Dove stava sto cannone Eh io non l'avevo visto Il cannone da campo Vai vai Intanto a uno l'ho eliminato Emo ce l'hanno fregato Riprendo Riprendilo di nuovo Prendilo di nuovo L'hai preso Sì Vai Aspetta che Vai Mi devo mettere io Eh sto No Faccio sempre confusione Tra l'avanti e il dietro Ora sto Vai Allora ragazzi Siamo nel carro armato francese San Shimon Che è nuovo Praticamente Qua intanto Siamo stati investiti Da un altro carro armato Ecco Ecco C'è chi non l'ha Oh No Là c'è uno Allora C'è uno Là c'è uno Là c'è uno Aspetta Non ritorna indietro Se no mi spara Non me Eh ma Ripara Ripara Ma tanto Pur se ti pigli le botte Non saranno mai Abbastanza Forti Per distruggerti Quell'aereo Del pene No Non si può distruggere No Lo volevo distruggere Cavolo Io una volta solo Ci sono riuscito È stato Durante la beta Di tu Che sono riuscito A prenderlo Oh Perché non cammini Perché non cammini Oh Oh Vai carro Vai carro Allora vediamo Atri In sé Cote Non so come cazzo Si dice Comunque vabbè Siamo qua Ordine d'attacco Completato Bene Bene Cerca di sparare Al bombardiere No Siamo stati molto incisivi Intanto dove sta il bombardiere Eccolo Eh mo sta Ma quello è il bombardiere alleato Dobbiamo colpire il bombardiere No no Quello è il nemico Mulino Cra Vasson Cravasson Scendiamo Io ti sto sopra Così ti posso cura sempre Oh Però cerchiamo Cerchiamo farmi casca Lo so perché Ha un modo Strano questo di Sì Vai San Shimona All'attacco Protettore dei carri Oh è questo qua Che mi Che mi Che mi fare In questi investimenti Cioè che cosa brutti Il mulino E il mulino bianco Però Non rimane fermo Perché se no I cecchini Mi spaccano Cerca di muoverti sempre Sì Sto vedendo Gli amici del mulino Qua Dov'è che stanno nascosti Dov'è che stanno I zozo Ah eccola Oh Un nemico colpito Oh Un nemico colpito Come cap Oh È forte Li ho fatti Li ho eliminati Vai Sul tetto Vai Sì Sfacca il tetto Allora Adesso spacchiamo La staccionata Tanto non siamo noi Che dobbiamo pagare i danni È la guerra Questo è il bello Della guerra Poi Qua intanto vediamo Che c'è un cecchino Che si nasconde Ed è un nostro alleato Qua ci stanno Gli afghanistani Qua ci sta la bandiera Qua ci sta una granata Del pene Qua ci sta Ah 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 Ci sta una Oh No Vai Non ti preoccupare Ti curo io Ti curo io Sì Eliminato Incidente Incidente Tra carri Non si può farlo Non vogliamo fare Questi scontri Sei un altro eliminato Dai Tutti Io vi canonizzerò Mi farò diventare santo Ti preoccupare Che tanto ti curo io Cioè il carro Finché non muoio Merda Che ci sta a pigliare Forza di brutto Vai vai Curami Curami Tu curami Ma la vedo io A farli A canonizzare Intanto la B l'abbiamo presa Abbiamo perso la Oh Da qui L'ho fatto da qui Attenzione Attenzione Loi Che canonizza Gli avversari Attenzione Oh Chi è Chi è Chi è Chi è C'è uno qua dentro C'è uno qua dentro C'è uno C'era No C'era No Dove cacchio sta Sto figlio Di Ah no Ho sfondato la porta Qua c'è qualcuno Qui Ah Spacca le pareti Vai Levati tu Ah Sì Spacchiamo tutti Sai che subisco i danni Subisco danni E poi va finché crepo Ah ok Allora vediamo Lassopra Sulla c'è Sull'arbero C'è qualcuno Ah no Là c'è uno Là c'è uno No Vai 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 Là giù Là giù Là Nemico colpito Allontaniamoci 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 Aspetta che mi metto Col supporto Aiuto No L'attrezza di quella torre Gli amici del mulino No Aiuto Aiuto No Vai Sto per arrivare io Sto per arrivare io Aspetta No Non è possibile Si è salvato Quello No Il lanciacarazzi Mamma mia Ma che cavolo Ragazzi avete visto Dopo una strage Che abbiamo fatto Sperando che sia venuto registrato Desta parte Vabbè Abbiamo fatto Il casino Vero e proprio Adesso siamo morti Bene Adesso è arrivato il momento Più duro E questa è frase Doppio senso Adesso dobbiamo prendere La balestra La balestra Non l'attrezzo Del meccanico Dobbiamo prendere la balestra E ficcare un po' di Non di frecce Ma di Bombe Che sono granate Sono Ah Oh pensavo di Oh Eh Cioè tra tutte le cose che stavano Cosa mi va ad ammazzare Il bombardiere Cioè tra tutti i nemici Il bombardiere Che sta in cielo Entriamo Oh ecco Il fiume Il fiume Ecco il mulino bianco Che in questo caso è marrone Adesso attraversiamo E saliamo qui l'acqua Guardate lì un nemico Tiriamo la granata Ma Purtroppo non Eh prendi di questa Dai Ma come cacchio E ste granate Che Ah Sì Vai Vabbè ma Di sto passo è impossibile Vinci Cioè conquistiamo un obiettivo E ne perdiamo un altro Dai ragazzi Basta fare i cazzoni Oh guarda Guardala Guarda Ah Ah c'era uno C'era Adesso è scomparso C'era una volta Vediamo Vediamo se si vedono Questi tozzoni Oh abbiamo preso Ok Oh ah La rimaniamo qua La Un nemico Rimaniamo qua di perto Ma guardalo il tozzone Come si butta dietro le pietre Guardalo Pulisci il set Ora ecco si Preso Vai anche tu Tozzone dove vai Eeeee Basta è lassù tu Fra Sì l'ho preso Vai Da 32 mila chilometri Che non so manco se sono i chilometri da qui alla luna Mo per dire Dai Intanto possiamo vedere il buon tempo di oggi Le nuvole Non c'è il sole Però è buon tempo comunque per ammazzare le persone Allora Andiamo sulla B Fra Vedi se riesce a sparare col bombardiere lassù Col fuccino Cioè Dovremmo andare bene Dove vuoi Cerca gli anticipano un po' Così Vai Vai Dai Dai Lo dice col fio Oh dai che l'abbia battuto quasi Eh mi metti il posto di munizioni per favore Ce l'hai? No non ce l'ho perché Ah nemmeno io ce l'ho Io ce l'attrezzo Eh l'attrezzo Dopo senso Oh intanto il villaggio di Shodun Ragazzi come potete vedere è stato preso Intanto noi avanziamo Ragazzi io sto cercando di fare contemporaneamente a tutte le cose che avete appena visto Sto cercando di fare le sfide con Quest'arma qui io con le soppressione del Lewis Di quest'arma qui devo fare 50 uccisioni Non per forse in una partita Intanto qua vediamo un figlio di Troia Che boh Quello là col bombardiere in continuazione a rompere i coglioni Sta Intanto qui Oh guarda Ci sta il kit di cacciatore di carri che rompe Non bocca i coglioni Danneggiamento veicolo Aereo d'attacco danneggiato Il problema è che non Senza cannone non possiamo fare niente Gladiatori Come gladiatori Ah la dente stanno i gladiatori Gladiatori uscite fuori Fate un po' di stragi Gladiatori uno di sei a Allora è gladiatore Alla singolare Dove vai Abbiamo stracciati di brutto Voglio aiutare Eh dobbiamo riparare Aspetta devo riparare Ripara 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 Perfetto Oh oh Subito Troppe persone stanno Troppi nemici Intanto Troppi nemici Non ne vedo nemmeno un Però Dove cacchio stavo No Bastardo Stavo nella casa Allassù Mi sono andato a tirare Una granata Oh Vai Granata Oh fra 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 Prendi il carro Prendi il carro Oh bravo Bravo Prendi il carro Oh i nemici Attacco E' efficace Ma non mi dico Oh 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 Sto arrivando Ecco ti parlo Aspetta Devi essere riparato Sennò ti riparo No no Ok Metti al comando E come si fa Aspetta E io metto sopra Ecco Oh sono al comando Di nuovo Ah Sei eliminato Aspetta Vai Ma no Aiuto No No Non ti fa colpire No Vaffanculo Il tank Gauer Anno Pure il tank Gauer Anno Eh cazzo Quello fa male Eh quello è proprio Quello che fa male Contro i carri armati No adesso Andiamo su A Con il suo pressione E li mettiamo pressione Tant'è che Oh Nel carro sto E li facciamo morire Ripara 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 Il carro Ripara Bravo Aspetta Il lanciacarazzi Mamma mia Ma che cavolo Intanto qua Dobbiamo capire Ah Sei preso Allora fammi capire Qui com'è la situazione Vai 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 avanti Vai avanti Andiamo di qua Andiamo Risali Risali Sì Sì No Risali Sì Bravo Ora Qua dentro No Chi sta Vai avanti Corri 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 Vai avanti Fai di giro Vado Vado L'importante è che diamo fastidio ai nemici No Ah L'ho ucciso L'ho ucciso a uno Cercavi un fattico Acqua Dai carro Distrutto Veicolo sabotato Sì Eliminato Vai Tutti uccisioni col carro Chi è che sta sparando Oh sono uscito Dai che ti ricarico Sono uscito per paura Aspetta Rientro No non lo si Non lo si Non lo si Rientro Oh sono Dai che ti cuore io Qualcosa mi colpisce No Qualcosa mi sta colpendo Qualcosa mi colpisce Con l'immortaio è È un mortaio È un mortaio Il mortaio di ma Non si riesce No È l'aereo Vaffanculo Oh ma questo qua Deve morire di diarrea Proprio Cioè Lo dobbiamo prendere Questo bastardo Che sta sopra Il pene Là Sta sopra l'aereo Mamma mia Che cazzo che Che rottura di palla È questo Mamma mia Ma io sfondo sul bombardiera È un battamento Nella rottura di coglioni Allora io sfondo sul bombardiero Vediamo se Qua c'era uno Vè 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 Ah si Vè 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 Tutti i batti di Capodanno Adesso Vai Vai nemico No Mosinagant Che sembra una cosa In dialetto Ma non lo è Dai Sta pure piovendo La pioggia Dio sta piangendo Per questa partita Dai Adesso Ti riparo Riparazione di squadra Nastro del ripristino Ripare il veicolo A chiedere di 5 volte Oh bene Vai vai Entra Entriamo dentro Oh sono io Alla guida Ottimo Ottimo Mo succederanno Stragiche Ah Si Subito Ho visto che Al primo colpo Dai Andiamo sulla B Sulla B Sulla B Sulla B Ah No Aspetta Zorzone Vieni qua Zorzone No Mi stanno sparando Mi hanno distrutto Di brutto Dove sta il Zorzone Dove sta Dove Non ti posso più riparare Quindi Cerca di Non Infatti Mi sto incastrando Chi è il figlio di Troia Aspetta Aspetta Che arrivo Se ti ritrovo Lo stai Mi sono nascosto In un buco Il carro è sano Ancora Stava per essere distrutto Bisogna Eh Abbiamo vinto Abbiamo vinto Alla prima colpo Manguna assalta Manguna assalta Abbiamo sprecato C'è Abbiamo fatto La partita Che non riuscivamo a fare Da tipo 30 milioni di partite C'è Abbiamo preso Tutto in un colpo Molto bene Ora non so se finire qua O passare già A fare il video Anche No vabbè Continuiamo alla prossima Poi faremo un sacco di tagli Sicuramente Delle parti inutili Sì sì Un attimo solo Ok ragazzi Allora come avete visto Abbiamo fatto Praticamente Una cosa che non è mai successa Almeno a noi Per ora In attacco Abbiamo conquistato Tutte le Diciamo Tutte le postazioni Nemiche Che c'erano da conquistare A 2 a 2 Si andava avanti E siamo riusciti Facendo una partita Praticamente Prevalentemente Di carro armato Ecco Io dovevo fare ancora 25 comunque Eliminazioni Col San Simón Cumulative Perché ci sta Un trofeo legato Vabbè Chissà quando Avrò fatte E adesso Si passa Alla mappa Successiva Diciamo Che forse Siamo stati migliori Col carro armato Forse E poi I difensori Ci hanno un bonus Ci hanno un bemot Quindi ci dobbiamo Mette l'assalto Per cercare Di istruggerlo Ok Bene Magari uno mette Tipo in supporto Dalle munizioni E uno spara Ovviamente Questa mappa Ragazzi È sempre Mettata in Francia Questa mappa Ha più Diciamo Trincee Possiamo dire così Trincee Piccoli bunker Vedete Tanti tulipani Sicuramente I papaveri Sono alti Alti E i tulipizza Le tulipizza Eh si I tulipani I tulipani I tulipizze Che fanno ingrassare Se li mangi Se ne fai tanto Senza olio di palma Senza olio di palma Tant'è che qua Palme non ne stanno Stanno su Deserto del Sinai Come dicono i cazzoni E anche Canale di Suez Lì trovate tante palme Tanti oli Oli di palme Odiati Aspetta e forse riesco a prendere il carro Sì E' preso il carro Sì Ok Però Però ci sta la gente dentro Quindi non mi fida a lasciartelo Perché va finì che si vengono gli altri Eh aspetta dove entra la data Sì ma Ma che invisibile la mia classe Che è sta roba Senza arma Oh Eh cazzo mamma Carica a baionette invisibile Ma che è Dove entrare da te Arangiarmi il bemol Ci sono Intanto voi ragazzi direte Eh ma sono tutti bravi con i cararmati Infatti che Questa Sarà forse una delle mie uniche partite Dove usate il carro armato Quindi Prendiamo la trincea Com'è che si chiama Moltre Com'è che Com'è sto nome qua Oh Oh Ah ecco C'è un carro là Eh Ora dobbiamo metterlo a salto Dobbiamo distruggerlo Ah ma quello è il behemoth Dobbiamo mettere per forza l'assalto Sì Metti l'assalto Tiriamo La granata Ah sopra di te Ma distrutto Bastardo Una volta si rincastrata il bemol L'abbiamo bullizzato C'è proprio granata anticarro Dinamiti C'è perché si rincastrata Allora voglio bullizzarlo Aiuto Vai vai Ha distrutto il bemol Aiuto Ragazzi Il bemol È praticamente Per chi lo ricordiamo Una specie di super arma Che viene data Ad una squadra Quando hai svantaggio Ecco In questo caso È sto carro ciccione Ecco Che io mo' ho ferito Il problema è Che adesso Non ho niente Da tirare gli conti Perché la dinamite è finita La dinamite La dinamite è finita L'ho colpito due volte su tre Quindi No vabbè Mi hanno distrutto Lì Aspetta Se noi metti il supporto E tu gli spari Io ti do le munizioni A motore Ecco Doveva arrivare Che cosa Una granata A manico A manico Non a manico Potrei provare Il lanciarazzi Ma perché Non ci ho pensato Prima Proviamo il lanciarazzi Però mettete il supporto Tu dammi le munizioni Perché Oh behemoth colpito Vai Behemoth colpito Vai Sì ma io c'è il kit Accacciatore di carri Vai 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 Ho colpito il behemoth Char 2C Ah così si chiama quel carro Te l'abbiamo distrutto Sì mo sì mo sì Alleluia Io devo distruggere Il carro armato nei mito Hai visto che esplosione Hai visto che esplosione Ma si fa il fumo nero Il fumo razzista Oh dobbiamo assolutamente Ma do il fumo Questo il fumo bianco Ecco questa è l'altra razza Ecco il carro armato Dobbiamo fare No ma che cavolo Carro d'assalto Medico Medico Mannaggia te Medico Medico Vieni 13 metri Ma va Scusate Oh Oh ha sentito la bestemmia Ed è venuto Vedi È venuto È venuto È venuta Tozione Sei venuto Ecco Il doppio senso Assistenza Con la concessione No ma sono morto Jimbo mi ha ammazzato Oh prendetela Io sono spawnato Giusto giusto Dalla parte sbagliata No 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 Eh vaffan bagno Abbiamo perso Abbiamo perso Abbiamo perso il primo attacco Colpa del behemoth Ma ora non ce l'hanno più Questo è il fatto Oh è il carro Metti il carro giusto È messo Vai preso Ok aspetta che mi metto il supporto Ma non te lo posso lasciare fra perché è pieno di gente E dopo Ah ok Dai avanza almeno facciamo uccisioni Guardate ragazzi che bello No mi sono fermato perché se entro mi Ecco Già mi stanno a spacca di brutto Aspetta adesso ti riparo Ti riparo Ok Riparato Entra Entra dentro il carro No No La mina anticarra hanno messo Mamma mia Ma in teoria la mina anticarra non dovrebbe distruggerlo immediatamente Eh infatti che cacchio Subito Posso capirgli fa 30% di danno 40% Ma no che mi distrugge così Che cazzo Intanto la A è nostra Vediamo di muoverci a prendere Oh chi è Chi è Ma sai qual è la fregatura Che noi una volta che conquistiamo A Dopo tutti i soldati se ne vanno su B E loro ci riconquistano un'altra volta Quindi ci conviene arrivare qua Aia Ma chi è che sta sparando E da dove soprattutto Ho eliminato questo Cioè se mi ricarica Se mi ricapite il kit cacciatore di carro Ok Come possiamo vedere Qui c'è Aaaaa Oh quello l'hanno ammazzato Bene bene Vai un altro eliminato Vai un altro eliminato La soppressione Sì un altro Vai tutti 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 Ce n'è per tutti Anzi in realtà non è così Perché si sta per scaricare l'arma però Oh chi cacchio è No No Mamma mia Stanno due vicini qui Al cecchino Stava a destra Al limite mappa proprio Ecco dove erai No ma dai Diavolo Te mamma Dentro la trincea Tronzo Quel medico di merda Se io ho preso il cecchino Madonna guarda Aspetta Non grepa Non grepa Cerca io un bacio Vieni 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 per favore Vai così Mamma mia C'è qualcuno che spara Vai vai corriamo Corriamo Entriamo dentro la trincea Vai Settore conquistato Vai Perfetto Vai Vai sta a fare il giro Madonna come l'ha Ripulisce il settore Vai vai Andiamo Vai frati Distruggi Distruggi Oddio Sto obiettivo qua Ti dico Che sta bestemmiata Con uno starno Ma di brunco Io avrei bisogno Di munizioni Voglio Un altro munizion Almeno per la granata Fra vieni qua Cercai un vaccino Sto avvicinando Mi sto avvicinando C'ho la granata C'ho la granata Dammi la balestra Con la granata Dai No fra sopra Madonna Dove 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 Attento dietro Nella trincea Dietro Oh Non mi ha fatto colpire Oh Vieni vieni Rispano sopra di me Eh no Vai vai Aspetta Uno Un secondo Vai Così cazzo Sei risponato Uh Sì Però i passi da di qua No Devi sparare la granata Stanno tutti lì Vaffanculo Sto bastardo Da dietro Mamma mia Bisogna prenderli Devo Devo arrivare là dietro Stavano tutti Ma Ma io sto Cerchiato Sto cerchiato Dei nemici Ti giuro Vai Così Ho guistato di brutto Naccia Sto palestra Del pene Ridatemi I colpi Prima uno E poi ne mettono tre Per condensare Oh ripara sto palo I basti di capodanno Mamma mia Nove di vita Che Oh è caduto Oh sta qua un medico Sta qua una cassa Fra sta qua una cassa medica Vieni qua Vieni qua Sta qua l'ho vista No Vado a scortare Attraversiamo il fiume E il fiume Po Ovviamente non è il Po Cerchi 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 Un varticolpino Sarà la senna Dove stanno I sozzoni Oh Scavalca Coglione Scavalca No Vanno ammazzato Attendo Ma che cacchio Di trincee Ce l'ho Oh aspetta Il colpo La granata Oh E che cavolo E mo vediamo di fare La cacchia D'un uccisione Allora Cerchiamo Cerchiamo di conquistare il pod Cerchiamo di prenderlo Vai vai Prendiamolo alle spalle Fatevi vedere Figli Fatevi vedere Basta Dai Oh vai preso Sì Dobbiamo prendere solo la C Vai io distruggo sta a casa Distruggo perché ci stanno i nemici I nemici stanno nella casa Oh No io l'ho distrutto Sei stato promosso Sì e non bocciato Questa è la cosa importante Eh ti immagini che usciva scritto pur Sei stato bocciato Oh ma c'era un tipo sul cavallo Vai ammazzato Ah Un cecchino No Dai 3 2 1 di vita Dai curami Sì si riga nel culo E resuscitiamo Sì Che bel modo Di resuscitare le persone Ci hanno conquistato Gli altri due obiettivi Comunque È nostro il ponte Io li fanno la C Vai così Settore conquistato Vai Attacco efficace Sì impeccatevi per le palle Oh Stanno tutti di là Dai Dai Tipo con la malestra Ti prego Fagli uccisioni Ma com'è che non prendi Le cacchio delle uccisioni Non le fanno Con la malestra Oh Vai Aia C'è un cecchino Aiuto Là ce n'è uno Là c'era uno Ma è morto Uh Che casino Ce n'è un altro Guardalo Guarda cecchino Come figlio di Ecco Dove stanno questi Devo tirargli una bella granata nel culo Dai 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 zozzoni Fatevi vedere Dove stanno Oh vai Mi frego l'arma del medico Perché ho questi Dei munizioni Do sta Vai Prendetemi la granata No nemico colpito E tua madre non è morta Oh C'è giù madre Balestra da lancio H.E. E ammazzano a noi E noi non ammazziamo loro Ma Ma noi Qual è la balestra da lancio Giusta da usare Che chiedo io Quella frammentazione E quindi Io spero di Stare ad usare Quella giusta Oh Ho eliminato uno Oh Ho eliminato un altro Prima di morire con il gas Dai Jimbo Di nuovo questo qua E che cavolo Dai Dai mi serve Dai che abbiamo finito quasi Oh dobbiamo riprenderla Dove stanno questi Dove sta sto bastardo Che Che rompe Madonna come ci stanno a farci Che rompe su B Sulla B l'abbiamo presa La B Eh io sto a combattere Ecco ti Muori Sì Ma l'è stata lancio Vai muori bastardo Dobbiamo riprenderci la B Eh No Alla fine Dai E dai Sei bastardo Tanto voi Abbiamo pure il BEMOT Quindi Il San Simone Carro d'assaggio Carro d'assaggio No mi ha vinculato l'aereo L'ho preso Mi ha vinculato l'aereo Vaffanculo No c'è quell'aereo Entra nel carro mio Entra nel carro No ho preso l'aereo Cioè che tra l'altro L'hanno pure in buro Vabbè vai tu Vai attaccato Aiuto la granata Uh Cinque Però aspetta Fammi ti metti sopra Fammi ti metti sopra Ah eh Se è la mina anticarro Oh vaffanculo La mina anticarro Con un colpo Vaffanbagno Che palle Fatevi vedere E io vi ucciderò Beh ass Che Cristo Sì Colbito Dai Ti ho eliminato Quella l'importante Eliminarlo con la balestra E lo scopo Possibile che non ne ho Non ho ancora fatto L'uccisione che richiedeva E segui dieci Cisoni con balestra Da lancio Cinque di dieci Bah Prendiamo sta cacchio Di A Eh ma sta Andando a fare pure Un assalto Bello grosso La B Dai Dai Che abbiamo preso Dai Sì Dai così Sì Finalmente Tutti i settori Conquistanti Abbiamo vinto E abbiamo anche finito Sto cacchio di video Bene ragazzi Allora avete visto Che abbiamo fatto Delle stragi Ho tirato granate Ho tirato cose Con la balestra Che sembrava tipo Il medioevo Insomma abbiamo fatto Tante cose Strane in questo video Abbiamo canonizzato I nemici L'abbiamo fatto Diventare santi Insomma abbiamo fatto Un po' di tutto Oltre che vincere Che è la cosa fondamentale Qui intanto Sentite quello che sta dicendo Perché io non lo posso sentire Vittoria Ovviamente Oggi siamo stati un po' francesi Vediamo il punteggio 12.376 Valutazione Attacco 17 E punteggio Arriva a 27.000 Bene Ma vediamo che cosa Abbiamo combinato Io 30.000 Squadra migliore Ci siamo noi Ci siamo noi Attenzione La squadra mele Ha fatto meglio Perché è una squadra Che con una mela al giorno Toglie tutti di torno Infatti abbiamo montato Tutti gli altri di torno Intanto qua possiamo vedere Che non ci siamo Nei migliori Qua in evidenza Però Nella tabella punti Io sto Al quindicesimo posto 20 uccisioni 23 morti E tu 26-27 Ma è là stiamo Va bene Allora ragazzi Io spero Mo facciamo abbandona Immediatamente Io spero ragazzi Che questo video Vi sia piaciuto Ovviamente qua Sono stati fatti tagli A motore Perché altrimenti Voi non vi vedete Tutta la partita E niente ragazzi Spero appunto Che vi sia piaciuto E ci rivediamo Ad un prossimo video Yeah Grazie a tutti.